È una prima e grande esperienza dopo la sua lunga carriera? Sì, è la prima volta dopo tanti anni in giunta in cui rivesto il ruolo da consigliere, in questo caso da vicepresidente, che sono molto onorato, anche perché io credo che dalla parte del Consiglio si possa giocare un grande ruolo di supporto alla giunta per risolvere i problemi. Ovviamente per far questo abbiamo anche bisogno di una grande squadra, io immagino che tutti i cittadini del Veneto possano credere in questo nuovo governo regionale e anche loro siamo a disposizione per i loro contributi, le loro segnalazioni e proveremo a risolvere anche i problemi. Una domanda, secondo lei è più vicino a Verona, a Venezia? No, lo è sempre stata, io credo di averlo dimostrato e quindi continuerà comunque adesso. Grazie mille. Grazie mille.